A voi tutti buonasera e bentrovati a Montemurlo Informa, la nostra rubrica settimanale dedicata al Comune di Montemurlo. Iniziamo questa puntata parlando della variante generale al piano operativo dopo l'incontro di presentazione delle linee di indirizzo per la formazione della nuova variante. Adesso chiunque può dare il proprio contributo presentando delle osservazioni. Per farlo c'è tempo fino al 21 di novembre. Dopo l'incontro pubblico dello scorso 18 ottobre durante il quale sono state presentate le linee di indirizzo per la formazione della nuova variante generale al piano operativo e al piano strutturale, associazioni, cittadini e imprese passano adesso a dare il loro contributo concreto di idee proposte per disegnare la Montemurlo del futuro. C'è tempo fino al prossimo 21 novembre per presentare osservazioni proposte sulle aree tematiche e le strategie illustrate nelle linee guida della nuova variante urbanistica che, lo ricordiamo, riguarda sia la parte urbanizzata che quella rurale. Abbiamo voluto, aprendo questo percorso della variante generale, dare un congruo tempo a tutti i nostri cittadini per poter presentare proposte, idee, valutazioni su quelle sono le loro idee sulla Montemurlo del domani la Montemurlo del 2030. È un modo proprio per arricchire anche il nostro quadro conoscitivo di valutazioni e idee proposte tra le più varie ed è ovviamente un modo anche per poter poi definire nel percorso di variante un'idea, un progetto per la Montemurlo di domani sempre migliore. Gli obiettivi sono tanti, ci siamo dati una serie di linee strategiche, per noi diventerà fondamentale lavorare ancora di più su quello che è la valorizzazione del nostro ambiente alla ricerca sempre di una maggiore sostenibilità, una valorizzazione che deve passare da una dotazione ancora migliore di spazi pubblici, di dotazioni infrastrutturali e di spazi a servizio per i cittadini. Quindi questo deve essere un dato sicuramente centrale di questa variante che contribuirà a fare di Montemurlo nel futuro un luogo ancora migliore rispetto a quello di oggi. Montemurlo ormai sono anni che ha diciamo uno sviluppo positivo riguardo ai suoi servizi, riguardo a quella della qualità del vivere nel suo territorio e noi vogliamo proseguire in questa direzione affiancando quindi una qualità migliore dell'ambiente, delle dotazioni e anche di uno spazio straordinario che abbiamo a disposizione che è quello della nostra collina. Due terzi del territorio comunale sono proprio nella nostra collina e a questo riguardo attraverso la Montemurlo Green il progetto della collina delle meraviglie l'intenzione anche attraverso la variante è poter far vivere sempre di più, rendere più fruibile questo spazio meraviglioso nel nostro territorio comunale all'insegna del verde e della natura. Tra le altre linee programmatiche anche il potenziamento della sostenibilità e dell'efficienza energetica, la promozione dello sviluppo delle attività economiche e grande attenzione sarà data dalle politiche abitative alla valorizzazione e tutela delle aree rurali. La tematica che maggiormente l'amministrazione si prefigge di poter utilizzare con questa variante riguarda le operazioni di rigenerazione urbana, in continuazione con l'esperienza più importante che è stata attuata ultimamente e che riguarda l'area della fabbrica rossa di Osti dove appunto è prevista un'importante operazione di riqualificazione urbanistica. L'amministrazione con questa variante vorrebbe ulteriormente riuscire a risolvere i problemi che riguardano le aree degradate del territorio urbanizzato, diciamo le aree dove ci sono degli edifici dismessi industriali che potrebbero essere riconvertiti con funzioni residenziali, commerciali o direzionali e soprattutto essere realizzati anche degli standard e degli spazi pubblici per riqualificare parti importanti della città e quindi spostare queste volumetrie diciamo ai margini del territorio urbanizzato. Un'altra tematica importante riguarda la realizzazione di infrastrutture stradali importanti, ponti, altra cosa importante riguarda l'aumento dei servizi pubblici in particolare è prevista la realizzazione del nuovo cimitero comunale piuttosto che del nuovo liceo artistico Brunelleschi in un'area in prossimità della frazione di Bagnolo. Quindi sono tutte tematiche molto importanti che vorremmo con questa variante riuscire ad attuare. Chiunque può quindi dare ora il proprio apporto alla redazione della nuova variante. Le proposte potranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo comune.montemurlo.chioccelapostacert.toscana.it oppure in forma cartacea consegnandole a mano all'ufficio protocollo del Comune. Per ulteriori informazioni e per vedere le linee guida è possibile consultare il sito del Comune. La Biblioteca Bartolomeo della Fonte festeggia il compleanno con una giornata di eventi, quella di domani, sabato 5 novembre, aperta a tutti. Tra gli appuntamenti in programma è il laboratorio Lego History. Una giornata di eventi aperti a tutti all'insegna del divertimento e dello stare insieme. È così che la Biblioteca Comunale Bartolomeo della Fonte, sabato 5 novembre, festeggia il proprio compleanno. La ricorrenza ricorda che sono trascorsi 19 anni dal trasferimento della Biblioteca nella nuova sede della Limonaia di Villa Giamari. Quello di sabato vuole essere un momento festoso e di rinascita dopo gli anni difficili della pandemia. Un ritorno alla normalità e anche i numeri dei prestiti parlano chiaro. Dalle statistiche periodiche elaborate dalla Biblioteca relative al periodo che va dal 1 gennaio al 31 ottobre, si nota infatti che il picco negativo è stato raggiunto in piena emergenza sanitaria nel 2020 con appena 6.935 prestiti librari rispetto ai 15.035 del 2018. I numeri risalgono poi nel 2021 fino ad attestarsi quest'anno a livelli pre-pandemia con 14.051 prestiti. Siamo soddisfatti perché rispetto allo scorso anno abbiamo i numeri in crescita. Stiamo tornando piano piano alla normalità, cioè ai dati, ai numeri del pre-pandemia. Questo ci dà uno spaccato favorevole nell'utilizzo della Biblioteca, ma non solo, stanno aumentando i prestiti, stanno aumentando gli accessi, ci sono ragazzi a studiare. Per questo un compleanno vissuto in modo positivo che sta continuando. In questi mesi abbiamo, quest'ultimo mese abbiamo fatto tantissime iniziative, presentazione di libri quasi tutte sold out, tanta soddisfazione ma chiuderemo solamente con novembre importante. I festeggiamenti per il compleanno della Biblioteca si aprono sabato 5 novembre alle 10 con il lettore dell'anno e la premiazione dei primi dieci bambini e ragazzi lettori che durante l'anno hanno preso più libri in prestito. Seguirà una lettura animata e un laboratorio creativo sul tema dei libri e alle 16 un evento speciale dedicato agli appassionati di mattoncini e aperto a tutti con buon compleanno biblioteca con Lego History. Domenica 6, infine, lettura animata e laboratorio per bambini a cura dei formaggini guasti. Vogliamo utilizzare i laboratori per fare anche un po' di educazione civica. Lego History è proprio un modo nuovo di raccontare la nostra storia, la storia della medizzatria, la storia del territorio per grandi e piccini e poi il giorno dopo ricontinueremo con l'ultima presentazione di un libro della Quercioli e poi nei prossimi giorni il focus sarà sugli anniversari. Pasolini, Berlinguer e l'anniversario dei mondiali di calcio. Però racconteremo anche quello che è successo prima, per esempio. Per quanto riguarda i mondiali di calcio racconteremo anche quella pagina triste del Totoscommesse, il cosiddetto Totonero, che portarono in quei giorni lì tantissimi calciatori in manette in carcere e poi sappiamo tutti com'è andato a finire. E quando parleremo di Berlinguer non parleremo solamente di un grande politico ma parleremo anche della storia dell'Italia in quel periodo. Piazza Fontana che è stato sicuramente l'inizio degli anni di Piombo, il terrorismo nero in quegli anni e il periodo della tensione che c'era nelle piazze e tutto il resto. Per questo è un modo anche per fare memoria. E dal momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma a Montemurlo nei prossimi giorni. Domenica 6 novembre alle 16.30 la Biblioteca Bartolomeo della Fonte, Madre Natura e Padre Naturo, lettura animata e laboratorio per bambini da 3 a 8 anni. Iniziativa curata dall'APS e formaggini guasti nell'ambito della rassegna 10 e lodi. Alle 17 la Biblioteca Bartolomeo della Fonte, Gli anni dalla miseria nera al miracolo economico. Presentazione del libro di Maria Serena Quercioli, dialogherà con l'autrice Paolo Cintolesi. Infine alla Pieve di San Giovanni De Collato, quasi pronti, apertura della Pieve Accensione dei Presepi, iniziative nell'ambito della Festa dell'Olio. E con l'agenda è tutto, Montemurlo in forma per questa sera termina qui. L'appuntamento è per venerdì prossimo con nuovi approfondimenti sul comune di Montemurlo. Grazie per averci seguito e arrivederci.